Ciao ragazzi, ben trovati con noi della Criluma. Allora, parliamo delle vostre vacanze estive, si è sentito parlare moltissimo di vacanze in sicurezza e di bonus vacanza. Cerchiamo di darvi alcune spiegazioni in merito a questi due concetti. Abbiamo selezionato strutture, alberghi, appartamenti, villaggi che siano in totale sicurezza per voi e per le vostre famiglie. Tutte le strutture hanno aperto un po' dopo rispetto alla normale data di apertura proprio perché hanno rispettato totalmente i canoni della sicurezza. Parliamo di distanziamento sociale, parliamo però non di una vacanza con la mascherina, ma una vacanza che abbia i canoni di divertimento, relax e non sicuramente di stress perché il termine proprio vacanza è un termine giocoso. Tutte le strutture avranno dei canoni di distanziamento molto particolari, avranno dei contingentamenti negli spazi comuni, verranno fatti i turni per andare nei luoghi comuni, nei ristoranti, nei buffet che non saranno più buffet di una volta, anzi saranno buffet serviti a tavolo da parte del cameriere e quindi ci sarà ancora una maggiore attenzione verso il cliente. Strutture molto interessanti, sono state selezionate per voi e che rispettano totalmente i canoni del distanziamento sociale e anche spiaggia e della sanificazione. Non potremmo nei lettini che viene utilizzato da un cliente, quando il cliente si alzerà e ci sarà il cambio, un'altra persona utilizzerà quella struttura, avranno tutte le strutture sanificate. Per quanto riguarda invece il bonus vacanza, tanto chiacchierato, tanto discusso, tanto anche sponsorizzato, sappiamo che dobbiamo aspettare i vari decreti attuativi. Il bonus vacanza darà uno sconto diretto a voi, parli all'80% del valore del bonus stesso e il successivo 20% sarà in detrazione fiscale l'anno successivo. Si parla di 500 euro, sì, ma 500 euro per un nucleo familiare di 4 persone, mentre si parla di un bonus di 300 euro per un nucleo di 2 persone e per il singolo di 150 euro. Occhio, bisogna tener conto di determinati parametri che verranno dati dal vostro modello ISEE. Quindi aspettiamo tutti quelli che sono i canoni che verranno dai vari decreti. Noi della Chiluma lo stiamo studiando per voi per darvi totalmente questo servizio. Mi raccomando, questo bonus vacanza non potrà essere cumulabile con altri voucher che voi avete a disposizione, mentre potrà essere cumulabile tranquillamente con un voucher specifico Chiluma. Rimaniamo a totale vostra disposizione, come sapete sempre siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 della mattina alle 8 della sera, mentre il sabato 9.30, 13.30, 15.30, 19.30. Redline 392 64 26897, sempre attiva 24 ore su 24, potete chiamarci in ufficio allo 07199 45580 e contattarci su tutti i nostri profili Instagram o Facebook Chiluma Viaggi. A presto!